Stiamo salendo verso l'alto, verso il 132 metri dell'altezza del Grattacielo Pirelli, Milano. Una volta a New York ho visto uno che puliva i vetri e cantava. E' arrivato giù in fondo e gli ho domandato, ma perché lei canta? E dice, no, mi piace vedere gli altri che lavorano dietro i vetri. Dimenticandosi che anche lui stava lavorando. Come il resto, anch'io sto lavorando. Non è che mi esibisco un po', ma mi esibisco anche per farvi partecipare alle emozioni. Questo è il mio compito di portare il pubblico, portare i telespettatori che stanno a casa, e arrivare piano piano dal livello zero, arrivare ai 120 metri. Se io guardo giù, mi dico, mamma mia che impressione!